Mitsubishi porta a Ginevra due concept perché le altre vetture le avevamo già viste a Parigi la prima la C.A. Mi EW, un veicolo elettrico con una particolarità, la ricarica wireless a induzione autonomia stimata di 300 km, un concept quindi non la vedremo presso le strade forse non la vedremo mai sulle strade anche perché ci sembra a livello davvero prototipale, un'idea abbiamo invece sulla destra il nuovo GR H EW Concept che secondo me prefigura le linee di LH200 un pick up molto venduto di Mitsubishi, in questo caso motorizzazione diesel ibrida, anche qua stiamo parlando di un concept quindi design assolutamente non definitivo anche perché è un design veramente forse troppo futuristico ma forse ripeto le linee potrebbero prefigurare il nuovo LH200.